Ecco, dallo scudo di Pan arriva un appello, è tempo di nascite per i gatti, quindi che cosa ricordate e cos'è importante ricordare in questo periodo? Allora, quello che ci teniamo a dire è di non toccare i gattini. Allora, può capitare che uno va a fare una passeggiata in campagna, in un bosco, trova una cucciolata di gattini, di non toccarli, perché c'è la mamma lì vicino, anche se non la vedete, c'è la mamma che vi osserva e tolti quei gattini non gli si salva la vita, anzi è l'incontrario. Poi dopo avremo una mamma con la mastite perché ha il latte e che dopo 20 giorni ritornerà in calore un'altra volta, quindi non si salva niente, anzi si peggiora la situazione. Ma questo capita anche negli stabili, anche in città, in un garage, capitasse in un garage, da qualsiasi parte. La miglior cosa è lasciare lì come è la situazione, aspettare almeno una notte, che senz'altro la mamma innottata li sposta. Questo senso di dire no, li salvo io non va tanto bene perché facciamo dei danni, però involontariamente, per carità non voglio essere, però facciamo dei danni. Poi è importante che i gattini stiano minimo due mesi insieme alla mamma perché oltre che il latte, il nutrimento, la pulizia del gattino, c'è anche l'insegnamento che dà la mamma al gattino e noi siamo umani, siamo felini, quindi non gli si danno le cose, le giuste direttive al gattino, capito? Quindi anche caratterialmente avremo dei gattini che non sono proprio gatti. E' difficile da spiegare, però noi gli diamo quello che gli serve. Nel momento in cui poi magari i gattini non si dovessero spostare o si vedesse magari anche la mamma girarsi nello stesso luogo, chiamare un'associazione? Chiamare, perlomeno chiamare un'associazione, ascoltare i consigli che dà l'associazione, vedere se dobbiamo proprio spostarli per forza. Ci sono dei metodi da usare, ad esempio non toccarli mai con le mani perché gli diamo il nostro odore e dopo come si dice nel gergo la mamma si sdegna e non li vuole più. E quello vuol dire averli condannati a morte, certo, perché se non li vuole più la mamma te li hai spostati e li lasci lì. E quindi questa cosa è molto importante, chiamare le associazioni che con i loro anni di esperienze negative e positive vi sanno dire le cose giuste e ascoltarle le associazioni. Grazie.